ciao a tutti eccoci di nuovo in questa lezione vorrei che imparaste qualche scorciatoia da tastiera fra le più importanti allora incominciamo con le scorciatoie per richiamare le proprietà base adesso io chiudo il contenitore di questo livello e contiene due animazioni facciamo un esempio io ho l'esigenza magari di dover mettere dei keyframe soltanto sulla posizione di questa stella qui allora non sto ad aprire tutto cerco di aprire soltanto la proprietà position e per fare questo basta cliccare il tasto p p appunto come position sulla tastiera quindi schiaccio il tasto p e vedete che soltanto la proprietà position compare nella timeline tutte le altre proprietà non compaiono e questo è un risparmio notevole di spazio nella timeline ok se io invece volessi lavorare sulla scala cioè vedere la proprietà scala e basta dovrei schiacciare il tasto s come scala appunto se volessi lavorare soltanto sulla rotazione cliccherei sul tasto r come rotazione fino qua molto semplice se dovessi lavorare sull'opacità ecco questa è un'eccezione non devo schiacciare il tasto o come opacità ma il tasto t poi pensate a trasparenza che è un po' l'opposto dell'opacità e forse è facile ricordarlo ricapitoliamo questi quattro che sono i più importanti p position s scala r rotation t opacità se avessi bisogno di vedere anche l'anchor point ma sappiamo benissimo che è rarissimo lavorare sull'anchor point comunque il tasto sarebbe a quindi a p s r t queste sono le cinque scorciatoie per richiamare singolarmente le proprietà di transform e sono fondamentali direi sono importantissime abbreviano di tantissimo il lavoro in after effects però per esempio potrei avere anche un caso di questo tipo cioè vorrei lavorare sulla position e contemporaneamente lavorare anche sulla scala vedere entrambe queste proprietà ma se io schiaccio p e poi s sparisce la position e compare la scala quindi l'operazione in questo caso dovrebbe essere chiudo di nuovo tutto p per la posizione e se voglio aggiungere ma non togliere la position schiaccio il tasto shift e poi aggiungo la scorciatoia s a questo punto rimangono tutte e due e se per esempio volessi anche vedere la proprietà rotation senza far sparire le altre due proprietà schiaccerai shift r e poi shift t se volessi vedere anche l'opacità e se volessi che ne so adesso fa scomparire la scala schiacciare di nuovo shift s perché se è presente una proprietà riclicando nel tasto sparisce quindi ricapitoliamo di nuovo da capo i singoli tasti p s r t fanno vedere le singole proprietà e se le voglio vedere insieme con altri aggiungo anche lo shift in questo caso potrebbe essere shift s benissimo un altro tasto molto comodo legato alle cinque proprietà è questo di nuovo chiudo tutto se io volessi vedere delle cinque proprietà soltanto quelle che hanno già dei keyframe devo schiacciare il tasto u e se lo schiaccio qui le due proprietà che hanno già dei keyframe sono la scala e la rotation che avevamo fatto nella scorsa lezione cioè cliccando il tasto u compaiono solo quelle due proprietà perché sono le uniche che hanno i keyframe mentre la position l'ancor point e la trasparenza non avendo keyframe non compaiono comodissimo anche questo perché spesso devo richiamare i keyframe perché magari devo correggerli non mi ricordo più su quali proprietà li ho messi basta che schiaccio il tasto u automaticamente compaiono vediamo un paio di scorciatoie legate all'area di lavoro a questa barra qui spesso io devo accorciarla allungarla per fare in modo di fare la preview lì soltanto dove mi serve facciamo il caso in cui la barra si trovi in questa situazione qui vediamo come posso rapidamente spostare il punto di inizio e il punto di fine allora se io prendo il cursore del tempo e lo metto qui e voglio che l'inizio della barra coincida con la posizione del cursore schiaccio il tasto b ok poi sposto il cursore da un'altra parte e se voglio che la fine della work area coincida con questo punto il tasto n ripeto b ed n sono le due scorciatoie che sono legate alla posizione del cursore del tempo dove io lo metto se schiaccio il tasto b l'inizio della work area si allinea col cursore del tempo e se schiaccio il tasto n la fine della work area si allinea con il cursore del tempo quindi b ed n anche questo è molto comodo per spostare rapidamente l'inizio la fine della work area in questo caso la work area voglio che sia così e tasto n così bene un altro scorciatoie della tastiera importante riguarda gli strumenti qua su in cima non voglio insegnarvele tutte per ogni strumento ma una in particolare la scorciatoie della tastiera per richiamare lo strumento più importante che lo strumento selezione questo qui c'è scritto qui selection tool tra parentesi v perché questo perché spesso io quando lavoro in after effects ho bisogno di usare uno di questi strumenti qua poi li impareremo in futuro un po tutti ma quando finisco di usare uno strumento per esempio lo strumento rettangolo non dovrei mai continuare a lavorare in after effects con quello strumento attivo altrimenti rischio di fare pasticci di continuare a creare rettangoli in questo caso quindi devo sempre ricordarmi dopo che ho finito di usare uno strumento particolare tornare sempre allo strumento selezione e il metodo più rapido è appunto cliccare sul tasto v quindi se io per esempio c'è lo strumento pennino selezionato schiaccio il tasto v e automaticamente ritorna lo strumento selezione attivo quindi qualsiasi strumento v poi la volta scorsa vi avevo insegnato una scorciatoia anche questa fra le più usate che è quella per ammorbidire keyframe vi ricordate quando un keyframe è normale quadrato lineare si dice si può cliccare col tasto destro sul keyframe andare nel menu e attivare easy iso oppure la scorciatoia tastiera f9 anche questa importantissima alta scorciatoia fondamentale ma penso che questa la sappiate indipendentemente da after effects che è l'undu cioè l'annullare l'ultima operazione fatta che è il control z il contrario dell'undu che sarebbe il redo cioè se fate un passo indietro ma poi subito vi accorgete che invece no era giusto quello che è stato fatto e voglio rifarlo di nuovo quel passo il redo è shift control z ed è scritto qua shift command z per il mac ok ultima scorciatoia riguarda l'avanzamento del cursore nella timeline io lo posso spostare a mano e lo faccio molto spesso posso fare delle preview con la barra spaziatrice per rivedere l'animazione ok e se volessi invece far avanzare il cursore un frame alla volta a mano è molto complicato posso usare due tipi di scorciatoie se avete la tastiera estesa il comando pagina giù e pagina su si avanza e si indietreggia di un frame e se invece avete una tastiera non estesa è contro il freccia destra per avanzare e contro il freccia sinistra per indietreggiare di un frame e questo molto 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 comodo se volessi avanzare o indietreggiare di 10 frame e sempre contro il freccia con lo shift aggiunto quindi shift contro il freccia 10 frame in avanti oppure shift pagina giù 10 frame avanti contro il freccia a destra un frame shift contro il freccia destra 10 frame alla volta la freccia a destra la freccia a sinistra da soli qui bisogna stare attenti non coincidono appunto con l'avanzamento nella timeline ma con lo spostamento di un pixel a destra o a sinistra ecco lo sto facendo adesso sto schiacciando la freccia a destra più volte e la stella si sta muovendo di un pixel alla volta verso destra e se clicco sulla freccia a sinistra la stella si muove di un pixel a sinistra e anche la freccia in alto in basso servono per spostare di un pixel livello in su e in giù benissimo mi fermerai qua questi sono sicuramente i più importanti da ricordare quindi ciao e alla prossima